L'intento formativo del nostro istituto è quello di un unico progetto culturale che prevede una rete di rapporti di complementarità e interazione tra le diverse discipline, quali quelle umanistiche come italiano, storia, lingue straniere e quelle scientifiche come diritto, biologia, scienza della terra e matematica che convergano in principi comuni, costante obiettivo tra l'altro, in tutte le moderne teorie didattiche. Lo scopo dunque è la costruzione di questo sapere condiviso mediante metodi teorici e tecnico-pratici, anche in ambiti trasversali, quali ad esempio quelli della comunicazione, dell'imprenditorialità, della cittadinanza attiva e della pratica sul campo ed è così che l'apprendimento diviene dinamico, motivato e in una dimensione relazionale di benessere. Posso affermare che questa scuola ha valorizzato le mie passioni e i miei interessi. Ho potuto approfondire le lingue attraverso il progetto Erasmus e attraverso conferenze e convegni a cui ho partecipato con la mia classe materie umanistiche e scientifiche. Il mio obiettivo è di laurearmi in economia e commercio e penso che questa scuola mi abbia formato culturalmente al fine di poter accedere ad un livello di studi universitari.